Ciao a tutti ragazzi, duro finiti su Tollmaster Channel. Adesso siamo a prendere il suo attacco nascia, si conquista grande, per farvi vedere quella che io personalmente definisco la mia classe preferita. Sì, lasciate stare il bug, poi si carica. Comunque, diciamo che... Sì, vabbè. Ah, ma... Boh, mi sembrava che qualcuno si fosse rinunciare. No, sto posto qua non ci unico. Sì, ragazzi, nessun altro colpa è la mia play, ma probabilmente colpa anche della mia connessione e tipi cosa. Comunque, questo qua è un live che l'avevo annunciato un po' di tempo fa, ovvero un live. Una classe formata dalla mia arma principale, pistola, classe, insomma, cose preferite. E finalmente, dopo anni di attesa, perché ne avevo già fatto uno, ma diciamo che mi ero scordato di impostare quale mi fa problematizzare, e lascio nessuno. Non so se l'ingeglio. Comunque, parliamo delle armi... della classe preferita. E vi spiegherò anche il motivo per cui, diciamo, mi piacciono queste armi. Ora, parliamo subito della classe, che quindi è ingegnere. Perché è ingegnere? Beh, allora, partiamo subito dal fatto che la storia tra me e ingegnere è una storia molto lunga, che nasce dai tempi di quel capolavoro chiamato per campanile. Il capolavoro per molti è dimenticato, io non l'ho dimenticato, ragazzi. Vabbè, comunque... Allora, diciamo, ho scelto l'oro per il piacere ingegnere per il fatto che era efficace sia contro i veicoli, perché, come sapete, è l'unico che è lanciarsi, sia contro le persone, perché comunque armi che alla vita non sono tanto male. Quindi questo significa soprattutto perché io principalmente abatto e gioco a contesta. Sì, adesso è un aiutato di ripiare più tanti e di giocare domingo per provare delle armi, scoccare accessori. Oppure comunque fare dei video, per esempio, con il medico, visto che, diciamo, che in conquista la cosa migliore sarebbe un po' adattarsi a quello che è il medico. Quindi, per esempio, se ci sono tanti veicoli, utilizzare ingegnere. Se ce ne sono meno, magari utilizzare altre classi. Cioè, per me, insomma, non esiste una classe perfetta nella modalità e mappa. Bisogna riuscire ad adattarsi a quello che presenta comunque il medico. Infatti, il mio consiglio, ragazzi, è quello di cercare di cambiare classe il più possibile. Perché comunque, avere accesso a tante armi, comunque avere una... avere tante classi, vi assicuro che può esservi utile. Ora, facendo il fatto che sti coi stiamo tornando, diciamo che un genio per questo motivo qua, l'arma. L'arma è la CWR. Con il medico di notte, vabbè, perché il medico di notte è una cosa che è nata in cui sto battlefield, visto che è troppo bello, l'arma. Diciamoci la verità. Però, l'arma. Diciamo che il rapporto tra me e la CWR, se si può chiamare rapporto, è nato su MW2. Perché, ragazzi, il suo MW2 era troppo bello. Cioè, veramente, io me lo ricordo ancora, era bellissimo come arma. Poi, un'arma che comunque è sempre stata abbastanza forte. Poi, seriamente, cioè, è un'arma che, diciamo che, seppur abbia un attiro di forco molto alto. Cioè, a circa 880 colpi al minuto, sì, sempre... vi farò vedere sempre le cose rubate da Sinti. perché magari non si piace di me può volersi cose un po' più approfondite. Qua ho fatto una cavolata, io l'ammetto. E quindi mi piace, sia come Sinti, ma soprattutto perché è sempre rimasto troppo forte. Perché, come stavo dicendo, seppur abbia un attiro di forco alto, sì, ragazzi, c'è l'alto. Cioè, in intercineriamo intorno, c'è l'alto. Però, cioè, è male comunque abbastanza precisa. Se sapete fare brevie raffiche e controllarlo, me la cavate. Per quanto riguarda l'arma secondaria M211. Ragazzi, diciamo che mi sono sempre piaciute le calibre 45. Cioè, intanto per farmi esempio sul primi modo che avevo a fare, quindi dovevo a fare, mi piaceva essere il calibre 45. Seppur di grassi poco, perché era il tempo in cui io andavo in giro soltanto con arma per i mangi lanciararsi. Perché sì, ragazzi, se mi trovavo davanti un veicolo, cioè un elicottero, lo tiravo giù. Però ho detto, seppunto una trovera, non so, mi piaceva anche un po' come state. Capito? Quindi i calibre 45 mi sono sempre piaciuti. Poi la M111, qua tutte, comunque ci sono due calibre 45. La compact è la M111. La M111, diciamo, una scelta. Sia perché c'è comunque una storia, se così si può dire, più lunga. Visto che è da... Diciamo che è un'arma forte anche su... Sempre su parte che batte su Beton 3D2. Questa qua, ragazzi, le tiro sempre fuori. Non so, o l'ho fatto, poi lo farò meglio, dove vi spiegherò bene perché era così bello. E quindi praticamente, diciamo, per questo. Poi comunque perché, sì, ha meno colpi, però è molto precisa. Poi dai, comunque è bella, cioè... Si può parlare quasi di classiche americane, infatti la rivedrete anche in un altro live, dedicato alle armi americane, cioè la pistola, devo ancora decidere l'arma primaria. Perché diciamo che le armi, per esempio, in più, cioè le classiche armi americane, infatti un po' schifo, questo batte, il food. Ora, parliamo di un'altra cosa. Il... Perchè riguarda invece lanciararsi, perché è un'arma, grazie, anche se ne... Poi viene messo un po' da tutte le parti, ma è un'arma. Ho scelto l'RPG. Perché mai ho scelto l'RPG? Perché potevo sceglierne di tutti colori. L'RPG perchè? Allora, è pieno di infatti una rapida forza, tralasciando poi l'agganciamento. Che uso relativamente poco. Perché non è che mi facciano impazzire. Per certo, non po' tempo. Allora, c'erano due scelte. Il... Lo sumano si è dato subito, perché comunque ha meno danno. E il danno, quando si fa, diciamo, l'RPG, se non c'è l'assi contro veicolo, conta. E tanto. Poi, non lo so perchè. Cioè, all'inizio l'ho utilizzato, però era un po' troppo lento, per i miei gusti. E poi perchè, l'RPG colpindo di qualcosa da dietro, senza protezione attiva, fa 50. Lo sumo, non so perchè. Cioè, magari io ti sbagliamo a utilizzarlo, ma ragazzi, non me l'ha mai fatta, quindi... Mi sono qua, aspettate. Ma si tratta di andare a terra come possibile. Perché lì, allora, lì in fondo, c'è un non-buttono, e ci sono quanti, allora. Perché sarebbe meglio controllarli, per rimanare, che la D1X-130, o qualcosa del genere. Ma che essere schifoso. Chi se ne frega, intanto la... Vabbè, quello che si è schiantato. No, 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 no. Chi cavolo ci sta sparando? Chi cavolo ci sta sparando? Ma è il cannoneano sicuramente. No, ma qua ci vuole qualcuno. No, ma dov'è? Hai visto un camper? ragazzi sto qua c'è veramente non l'avevo visto comunque adesso passava subito come equipaggiare le varie armi sentite da sicuro tipo dopo prima dei modi tasti si vede collati cioè a me c'è tipo a lei nei suoi shop prese e opi lasciate stare comunque come equipaggiare le varie armi direi subito di dire per quanto riguarda la 5r io vi direi un reflex se ce l'avete mettete in coiote perché è troppo bello e andiamo a massacra ragazzi se mi piace tu non hai visto niente eh infatti mi ha visto si sono classiche cavolate comunque per quanto guarda ci va intanto poi lo facciamo faccio continuare quando cambia la mappa vabbè quindi ragazzi adesso aspetto il cambio mappa e poi continuiamo e vi parlerò di come equipaggiare le variarmi quindi ci vediamo dopo che ragazzi siamo ritornati qui adesso siamo su fai gli frutti non me ne ricordo a memoria ragazzi avete pazienza comunque come equipaggiare le variarmi beh allora iniziamo subito a cvr io vi direi il reflex il migliore sarebbe il coiote ma mettete lì quello che volete o l'olografico comunque rimanete sempre solo un per poi io vi consiglio un mirino laser perché comunque contando le sue caratteristiche quindi un'arma sicuramente è il trucco per portare le barche perché non sapesse dovete continuare a a coltellarlo mamma mia ma è quasi sì sì perché ci sono qualche arrepi che non va poi per l'azio perché come vi ho detto è un'arma adatta agli scontri avvicinati quindi laser sicuramente per andare in fire adesso vi spiegate come ho fatto morire adesso meno spiegate perché è impossibile cioè o qualcuno si è svegliato vabbè ragazzi questi qua sono o me è passato sopra il potrebbe essere passato sopra alcun momento ma non ci voglio perdere poi a questo punto ci sono due correnti di pensiero per quanto riguarda gli accessori poi lo si utilizza per cioè posso utilizzare degli accessori per rendere l'arma diciamo con meno meno recoil quindi per esempio mettendo un freno di bocca e lì come tornata direi lì come tornata ovvio solitamente l'utilizzo ci torno bene soprattutto perché facendo brevi raffiche diciamo che ve le trovate molte volte davanti al kit del primo polco mentre per quel che riguarda un'altra grande del pensiero sarebbe quella di diciamo mentre la gente dice il recoil è atto di suono quindi cerchiamo di alzare un po' lo spread cioè abbassarlo quindi infilandoci dentro canna angolata e l'infiniatura aspetta quella quella tossa oppure quella lì a bulbo se se lo nero si è baggato poi comunque ragazzi qua secondo me se lo nero danneggiato riuscivo a farlo fuori comunque parlando dovete un po' decidere voi io personalmente essendo il merito visto che metto l'infiniatura angolata e poi diciamo che l'inizio usavo ci torno di bocca adesso invece uso il trombolcino così diciamo che non peggioro ne miglioro niente e quindi siamo tutti a posto per quanto riguarda le scelte 111 diciamo che varie ma arriva a fare per tutte le pistole quindi mirino che vi piace poi laser cioè io consiglio appena sblocate un laser mettetelo perché vi serve questo che come avete visto nelle uccisioni prima si va tanto di fire e poi ragazzi l'unica cosa che dovete mettere sulla canna è il suono di bocca e basta perché il silenziatore diminuisce la velocità quindi è come se sparaste anche meno velocemente e che non è tanto consigliabile per una pistola diciamo che la salvia riduce tanto la portata fu quello e comunque teoricamente aumenta anche la degenerazione quindi si può dire che è un po' la metà cioè la lunga è un pochettino comunque la legna poi poi canna pesante se non arrivo compensatore direi di no perché hanno il brutto cioè mi diminuiscono ovviamente tanto lo spread quindi si può dire che non li prendete più si può sarebbero avanti di fire e ragazzi quindi vi consiglio trombolcino in mente cioè quelle sono le cose migliori perché comunque il mio consiglio è anche quello che no molta gente ragiona sul fatto che almeno un accessorio lo devo mettere un po' come ragionavo io il mio consiglio è di comunque valutare i vari accessori perché per mettere un accessorio che vi peggiora le armi non mettete l'accessorio cioè almeno il mio corrente di pensiero è questo quindi il mio consiglio è comunque quello di si basarvi sulle guide fatte comunque che può essere da me da altri vari youtuber no ma un ci avete visto veramente che camper che ci sono in battlefield adesso so dov'è ah si è spostato si è spostato ah ma forse stavo pensando ma che magari la storia di mincibilità appena rita cioè guarda che sai che si è spostato stai spostando i tuoi colpi lo sai si che anche sta storia qua del fatto lì che i colpi non sono infinti ma si devono ricaricarmi a mezza cavoletta e comunque ragazzi questi possono trovare da rpg penso che ma sto qua c'è veramente c'è sta andando in giro a camperare ma sta andando in giro a camperare quanto riguarda rpg ragazzi quindi non mi sembra che si possa mettere un accessorio comunque è buono mi avrei detto lancerassi mentre vi ho spiegato prima per quale motivo ho scelto quello lì ma questo qua ma ha smesso di rompere ma questo qua passa il suo tempo a rompere quindi mi sto allontanando boom mi becca va bene quindi ragazzi da questo punto di chiudere qui quindi bella a tutti da wolf ci vediamo al prossimo video e lasciate un like e commentate per quelle che sono le vostre casse preferite o quelle che credete siano per voi sono le casse più fonde e ci vediamo al prossimo video